Salve a tutti, tredicesima puntata di Orme, sto già un po' impostando le recensioni successive delle pietre miliari di questo programma, chiamiamolo così, e sto già avendo una mezza idea per la ventesima puntata fare di nuovo una retrospettiva di qualche artista, come ho fatto per la decima con Vasco questa volta probabilmente sarà un artista straniero, vediamo ancora un po' tutto nella mia mente, devo buttarlo giù su carta allora, tredicesima puntata, ci portiamo o rimaniamo in Inghilterra nel 1966-67, insomma, fine anni 60, Inghilterra come il resto del mondo è in pieno boom musicale, tantissimi stili, l'anno d'oro, del rock, non c'è bisogno che io ripeta tutti i grandi capolavori usciti, quell'anno da una parte e dall'altra dell'oceano quindi è un periodo veramente fertile, cominciano anche a differenziarsi i generi cominciano ad essersi le varie contaminazioni tra generi e in questo marasma positivo si inseriscono i Traffic, un gruppo inglese appunto della zona specifica di Birmingham, che sarà poi ricordata per i Black Sabbath, in realtà i Black Sabbath circa sempre in quel periodo si formano, ma hanno avuto diciamo una carriera più lunga la fama globale è poi arrivata leggermente più tardi, e sono un gruppo che si inserisce benissimo in questo solco di sperimentazioni, in questo solco di varie fusioni tra generi nel loro sound troviamo di tutto, troviamo ovviamente dalla psichedelia soprattutto nel primo album Mr. Fantasy, che esce nel 67, quindi in piena era psichedelica, ma troviamo Progressive, troviamo Jets, troviamo Folk, troviamo Rock puro, R&B, Soul, è un gruppo molto più nero, Black di quello che uno potrebbe aspettarsi è un gruppo inglese di Birmingham formato da soli bianchi tra l'altro quindi ha un sound molto americano, più che molto americano molto nero, con uno ovviamente una base, una base rock perché comunque è quello che un po' unisce tutti questi vari generi di cui ho detto, ma appunto appaiono Jets, apparirà un po' il folk nell'album di cui vado a parlare a breve, sicuramente il Progressive, sicuramente l'R&B, l'R&B intendo Ritman Blues ovviamente non l'R&B che conosciamo adesso, mi sembrava giusta questa precisazione anche se abbastanza inutile. I Traffic nascono nel 67 e i fulcri, anzi due fulcri dei Traffic sono rappresentati da Steve Winwood e Jim Capaldi. Partiamo da Jim Capaldi che era nato nel 1944 ed era un grandissimo batterista e percussionista con molto influsso Jets, molto molto creativo e fantasioso e tra l'altro anche compositore che è abbastanza una cosa rara nel mondo dei dei percussionisti, dei batteristi. A fare da controllare a Capaldi c'era Steve Winwood, scusate, Steve Winwood, ex ragazzo prodigio, anzi ragazzo prodigio perché è del 48, ancora vivo, Steve Winwood, quindi nel 67 quando si formano i Traffic ha 19 anni, si è contatto bene, ma lui era già famoso da prima, da quando militava nello Spencer Davis Group che ha regalato nel 63 l'hit Give Me Some Loving che probabilmente tutti hanno sentito in qualche film o in radio e quindi nel 63 quella hit facendo due conti aveva 15 anni. Una voce veramente incredibile, Steve Winwood sin dall'adolescenza, veramente sin da quando aveva 15 anni e poi ancora maturata col tempo, una voce molto nera ma al tempo stesso pulita, nel senso che sappiamo che i neri hanno una voce molto bella ma a volte roca, quando non sporca addirittura, che è una bellissima combinazione per dare un grande effetto. Winwood aveva una voce molto pulita ma molto potente, è veramente una voce prodigiosa, poi ovviamente suonava anche, ovviamente no, però ve lo dico, suonava anche tastiere e poi chitarra e bassa, ma lui soprattutto voce e tastiere dove, soprattutto la voce dove principalmente operava. Gli altri due e tre, Traffic, di cui uno dei due non sarà presente nell'album che recensisco ma registra i primi 3-4 album se non ricordo male. Allora, uno è Chris Wood, anche uno del 1944, ha il flauto, il sax e il flauto molto importante nei Traffic, da tutto quel, diciamo quel substrato folk e il sax invece va direttamente a catapultarsi nella musica nera. E poi Dave Mason, lui non ci sarà nell'album John Barley con Must Die che vado a recensire, che è un chitarrista e anche seconda voce, che però sarà presente soprattutto nel primo album capolavoro Mr. Fantasy e poi andrà a collaborare con altri grandi artisti, Jimi Hendrix e altri. Allora, nel 67 esce Mr. Fantasy, il loro primo album che non si vede granché è assolutamente debitore della psichedelia. Infatti le canzoni sono molto legate a quel mondo, a quelle sonorità, ai primi Pink Floyd in parte. Ed è un grandissimo album, un grande capolavoro dei Traffic. Loro si scioglono dopo qualche album nel 68-69, poi nel 70... Nel 70 c'è un progetto per un album solista di Winwood che però mano a mano lui chiede la collaborazione prima di Capaldi, poi rientra Wood. Sono questi tre in questo album, Winwood, Capaldi e Wood, appunto Mason, non c'è. Richiede la collaborazione prima di Capaldi, poi di Wood e gira che ti rigira alla fine si riformano i traffic e quindi può essere considerato un album della Reunion che esce nel 1970. Questa è la copertina, completamente diversa da una copertina che già dalla copertina qui in Mr. Fantasy, se si vede, c'era il riflesso, comunque ve l'ho fatta vedere prima, si nota che già si capisce che ci sarà un'atmosfera psichedelica. Questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare molto più un'atmosfera magari folk e in effetti in questo album che dura 34 minuti e 28 secondi, fonte Wikipedia, oltre al solito abbandoniamo la psichedelia e oltre alle solite appunto Venature, Jets, Soul, R&B e Progressive, troviamo molto, soprattutto in qualche pezzo, delle sonorità folk. In effetti il folk c'era ancora in periodo folk revival, i Fair Pole Convention, i Pentangle e ovviamente i Getrotal che possiamo quasi mettere, anche se molto più Hard Rock, però possiamo mettere in quelle sonorità, comunque il folk non si può negare che sia presente negli album di Getrotal. e anche i Traffic riescono, ovviamente a modo loro, con le loro sonorità, guardate che belli, Winwood con le in mezzo aveva 22 anni, se sei 70, 48, si 22 anni, ancora un ragazzino praticamente, riescono i Traffic con il loro stile a inserire queste sonorità folk. ovviamente c'è appunto il Jets e il Progressive che era un genere all'epoca, all'epoca lanciatissimo. brevemente, allora il disco originale consta di tre, di sei canzoni, si sei canzoni, il primo lato, il lato A presenta GLAD, come prima, un'apertura strumentale molto bella, scritta da Winwood, poi Freedom Rider, che è quella che stiamo ascoltando, che forse è uno dei due capolavori del disco, del disco stavo dicendo, insieme a John Barley con Must Die, scritta da Winwood Capaldi, Winwood entra in tutte le composizioni, ed Empty Page di Winwood Capaldi sempre. poi nella, diciamo, reedizione, rimasterizzazione, che è quella che ovviamente ho comprato, furono aggiunte alcune canzoni, dopo Empty Page fu aggiunta una breve composizione di un minuto e mezzo, quindi un interludio quasi, I Just Want You To Know di Winwood Capaldi, e poi il lato B, che inizia con Stranger To Inself, che addirittura col riff iniziale ci porta negli stati del sud degli USA, molto Southern Rock il riff iniziale, Winwood Capaldi. John Barley con Must Die, che è la seconda, appunto, secondo il capolavoro del disco, che metto tanto qua, è quasi finita, Empty Page, numero 6, e qui veramente troviamo il folk, pure semplice, tant'è che è un po' lentino il computer, tant'è che questa è una canzone della tradizione folk inglese, che è stata riarrangiata da Winwood, quindi è proprio, il folk non solo è presente, ma addirittura è nato come canzone folk intesa folclore, infatti Barley Corn è una personificazione del folclore anglosassone della birra e del whisky, che derivano entrambi dall'orzo, infatti Barley vuol dire orzo, quindi questa è non scritta da Winwood, ma riarrangiata da Winwood. E poi abbiamo Every Mother's Son, una bellissima ballata di Winwood Capaldi, sono stati poi aggiunti ancora nella rimasterizzazione Sitting Here Thinking of My Love, anche quella abbastanza, no, vabbè, tre minuti e mezzo di Winwood Capaldi, poi c'è un pezzo che è il backstage introduction, che era l'inizio di un live che poi non è mai uscito, in cui vengono presentati semplicemente il gruppo, e poi sono state aggiunte ancora Who Knows What Tomorrow May Bring, che è scritta da non so chi, e poi una versione live, e poi una versione live sempre di GLAD, sono stati registrati, leggo qui, proprio brutalmente. Record at Fillmore East in New York City, un concerto in New York, 18-19 novembre 1970. Sentite il flauto di Chris Wood, che, insomma, ci richiama atmosfera molto folk. Niente, i traffic poi hanno ancora fatto qualche album, che sinceramente non conosco, poi Winwood ha fatto una carriera solista. E questo, secondo me, è un album invecchiato un po' meglio di Mr. Fantasy, perché Mr. Fantasy, per quanto sia un capolavoro dell'epoca, risente ancora molto, molto della psichedelia. Questo è molto più ascoltabile, più gradevole. Anche un album da macchina, che per me non è dispregiativo, quegli album che metti di sottofondo mentre guidi. Bene, questi erano i traffic, John Barley con Must Die, caposaldo dei traffic, ma anche di quell'epoca, di le solità di quell'epoca, che risentivano un po' di questi influssi vari, sia dalla musica nera che dalla musica folk bianca. Ci rivediamo, insomma, prossima puntata, la quattordicesima. Ciao ciao!